Prima volta per la nuova giunta regionale di De Luca questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia per la riunione del Consiglio. Dopo la nomina di Francesco Picarone a Presidente della Commissione Bilancio, oggi il Consiglio dovrà approvare un'importante variazione per tirare fuori dalle pieghe dei conti regionali i soldi necessari al fondo per la disabilità. Io credo che noi dobbiamo investire molto su servizi sociosanitari, che significano occupazione per le donne, che significano possibilità di prendersi in carico della sofferenza, perché abbiamo bisogno di più attenzione ai disabili, agli anziani, alle persone che vivono difficoltà. Il fondo sulla non autosufficienza razzerato, abbiamo trovato i primi 16 milioni di euro che va in questa direzione. Il Presidente arriverà in aula dopo una mattinata particolarmente impegnativa trascorsa a Palazzo Chigi per la firma dell'accordo sul nuovo piano della Whirlpool, ma è sul fronte dei rifiuti che la missione romana si presenta particolarmente spinosa. De Luca ha incontrato il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che proprio ieri a Lussemburgo ha affrontato con il Commissario europeo la questione relativa alla campagna, condannata dalla Corte di Giustizia per l'emergenza rifiuti del 2008. Il Ministro vuole arrivare ad una soluzione definitiva del problema ecoballe e De Luca non si è fatto trovare impreparato. Il metodo di smaltimento dei milioni di tonnellate di ecoballe ancora stoccate in campagna resta però il vero nodo della questione, perché il neogovernatore non vuole sentir parlare di altri termovalorizzatori. Il piano dell'ex sindaco, infatti, prevede il trasferimento fuori regione, mentre il Ministro Galletti chiede che venga completato il programma degli impianti in campagna. Sullo sfondo la multa da 20 milioni che cresce ogni giorno di 120 mila euro e che peserà tutta sulla regione campagna.